Puoi anche metterlo giù questo dannato zaino adesso. È la mia camera. Non è stupenda? Pensa, è tutta tua. Allora, entra. E questo è il mio numero di telefono. Ma ricordatevi che ne ho altri dieci come voi di cui devo occuparmi. Ecco qua. Anche Gesù Cristo aveva dodici apostoli di cui occuparsi. E ora, che ne dite se andiamo tutti a mangiare qualcosa fuori? Fai tranquillo, Elling, tanto paga lo Stato. Ehi, Elling, hai sentito? Lo Stato ci paga la cena. Siamo appena arrivati. Io non ho nessuna intenzione di muovermi di qui, va bene? Non capisco perché dobbiamo uscire soltanto per andare a mangiare del cibo schifoso. Non credi che sia un modo carino per festeggiare la vostra nuova casa? Io credo che il modo più appropriato per festeggiare la nostra nuova casa tranquillamente sia restare nella nostra nuova casa. Ma qui non abbiamo niente da mangiare! Calmati, andrà Elling a prenderci da mangiare. Vero, Elling? Io ho sempre avuto due nemici. I capogiri e l'ansia. Elling! Dietro l'angolo! Ma presto, eh? Montro Studio Montro Studio Montro Studio Montro Studio Grazie a tutti.